Sapevate che in Italia c'è un luogo dove è possibile bere all'interno di una chiesa sconsacrata? Tra freschi colorati, bellissime volte e persino un altare, abbiamo degustato i migliori vini di questo territorio. Dove ci troviamo? Nelle Langhe, più precisamente a Barbaresco, nell'antica chiesetta di San Donato. Questo luogo in Piemonte è una tappa davvero imperdibile tra sacro e profano.